Ed è morto Adelchi De Colibus, sindacalista e assessore del comune di Pescara. Aveva 77 anni, una vita spesa tra sindacato e politica amministrativa. È stato dal 1981 sindacalista della CGL, dove è rimasto fino al 2003, quando i vertici cittadini del PD gli chiesero di candidarsi per amministrare la città di Pescara, dove divenne assessore alla cultura fino al 2008, nella prima giunta guidata dall'allora sindaco Luciano D'Alfonso. Negli ultimi anni si è dedicato al volontariato nell'associazione Formart, che si occupa del recupero dei libri dismessi. Sono tanti i ricordi commossi che sottolineano le qualità personali e culturali di Adelchi De Colibus e quell'invito sempre attuale ai giovani di fare politica e di essere curiosi. Da parte di tutto lo staff di Rete 8 ovviamente ci sono le condoglianze alla famiglia di Adelchi De Colibus.